Ancora disagi nella città di Agropoli e come spesso capita, gli incivili prendono di mira le auto. E di questa notte la denuncia di un cittadino agropolese riguardo le condizioni in cui sono state ritrovate varie auto nella zona porto turistico. Dalle foto pubblicate sui social, auto parcheggiate lungo il passeggio del porto presentano danni anche importanti causati da persone poco corrette, come targhe staccate e gettate via, ammaccature derivanti da calci, tergi cristalli e specchietti distrutti. Questi segni di inciviltà di chi risiede o di chi viene in vacanza ad Agropoli sono da tempo uno dei principali problemi della città, che ha bisogno di un effettivo ed importante progetto di sicurezza, sorveglianza e videosorveglianza che ad oggi è carente. Ora non resta da capire se le telecamere presenti al porto abbiano potuto riprendere le varie scene legate ai danni alle auto, al fine di risalire ai colpevoli e fare giustizia a chi è stato danneggiato. Grazie a tutti.